con le sue piene ma questo è il pietra soldi eh sì questo ladice non lo butta giù di sicuro la città si sveglia sono i facchini che vanno alla ducana qui al pochi c'è la ducana per le merci che saltano l'adice e all'isola quella per le merci che scendono oi vado la gente che vanno alla ducana? eh sì e sempre carichi i mossi portano meno peso di noi si fatica la vita dei facchini è una vita di fatica le nobile invece cosa? che avevo capito? e cosa portate in quei pagotti? portiamo belli e le dove arrivano? le lavorano la sua e mulini ecco cos'era l'odore quando si è passata la sua vicina e mulini non ci sono solo i mulini sull'adice ma anche le concerie che macerano i pellati nell'acqua ci sono calciolai che fanno stivoli e ciliteri come no? le nuove a nuova ci sono ottimi calciolai ne vorrei farvi fare il paio la mia signora gli adora glori con sti pari di pen e non gli altri con me di scalmare di legno ancora? come ne ho toccato ma? capito? niente signor Marchese non ho detto niente come ti chiami? mi chiamo Bartolomeo ora se volete scusarci ne dobbiamo andare eh sì alla ducana ci aspettano andate carichi